Avvocato Pezzini come vede il futuro della pista ciclopedonale? Il futuro della pista ciclopedonale? Vorrei vederlo rosio ma ho l'impressione, il timore che così non sarà. Ho sentito, or non è molto, che probabilmente c'è nell'area, nell'area di Sanremo, l'intendimento di dare in gestione la pista ciclabile ad Amaia Energia. Io non vorrei fare delle battute di cattivo gusto ma mi sembra che visti i risultati non propriamente ottimali della gestione della nettezza urbana, conferire anche un'area così dissestata come quella della pista ciclabile mi sembra una scelta quantomeno un poco azzardata per usare un eufemismo. E secondo lei che cosa si dovrebbe fare per migliorare questo tratto che ce lo invidia praticamente tutto il mondo? Questo tratto prima di tutto avrebbe bisogno di una manutenzione diuturna, regolare, costante, non fatta esclusivamente in autunno e in primavera. Poi avrebbe bisogno naturalmente di un controllo altrettanto costante e regolare delle forze dell'ordine. E poi soprattutto in primis avrebbe bisogno di una asfaltatura completa di tutto il manto. Non dimentichiamo che la società di gestione precedente è finita in tribunale con 19 milioni di euro di debito. Allora io mi sono sempre chiesto come sia possibile che una società che ha semplicemente la gestione di una lingua d'asfalto riesca a finire in decozione senza fare nulla e lasciando una pista, un gioiello di questo genere in queste condizioni. Il Movimento Futuro a Sanremo si arricchisce di nuovi volti e c'è una new entry ed è proprio qui a fianco a lei. Abbiamo questa new entry molto brillante che è l'avvocato Patrizia Ritondale che oltretutto ho il piacere, il privilegio di avere in studio con me che ha deciso di candidarsi nella nostra lista ed è un nuovo volto giovane e un volto di una professionista e di una professionista particolarmente capace. Quindi questo va a rafforzare, confermare il fatto che la nostra lista sia una lista dove le persone vengano scelte con una certa oculatezza. Allora il perché di questa scelta? Io sono molto onorata di far parte del team di Sanremo Futura. Trovo che ci sia un programma che è fatto di pochi punti ma punti che sono concreti e che ritengo se gli elettori ci daranno fiducia potremo realizzare.